Ciao bambini, ben arrivati! Ciao! È stato lungo il viaggio? No! Possiamo chiederle di presentarsi? Io sono Giuseppina Raffaelli e sono cotitolare con mio fratello Paolo dell'azienda Maso Salengo di Volano. L'azienda agricola Maso Salengo nasce dall'idea di mio bisnonno di produrre marzemino. Lui è iniziato agli inizi del Novecento, secolo scorso, più di cent'anni fa. Lo vendeva a sfuso e mi ricordo mio papà che mi diceva che una volta non si vendeva in bottiglia, si andava ai mercati. Era un discorso più di vendita in casa. Su questo portone si metteva un ramo di edera e quando la gente passava sapeva, vedendo questo ramo di edera, che si vendeva il vino fatto in casa. C'erano altre due o tre cantine in paese che si chiamavano Raffaelli. C'erano anche tanti privati che si facevano il vino in casa. È una tradizione che in paese c'è sempre stata. Per lei quali sono le cose importanti per realizzare i propri sogni? Sicuramente determinazione, ma la passione soprattutto, la passione per quello che si fa, ti porta a buttarti a capofitto in un'attività, in un progetto che credi che valga la pena. Io ho fatto inizialmente tutt'altro studio, non avevo neanche immaginato di lavorare in azienda con il mio papà, perché parliamo degli anni, fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, era più un settore, un lavoro maschile fatto da uomini. Che cosa faceva una donna in un lavoro del genere? Non era il lavoro appunto tipico di una donna al venire a lavorare in cantina o in campagna o commercializzare vino. Mi sono resa conto di questa passione solo iniziando a lavorare. Mi è stata trasmessa da mio papà. Amava moltissimo questo lavoro, tornava a casa sempre stanco morto la sera, ma felice di quello che aveva fatto. Respirare questa passione nel mio papà sicuramente ha contribuito a farla nascere e crescere dentro di me. Ci è voluta molta preparazione per poter essere credibile di fronte agli altri, poi per fortuna in questo mondo enologico divino è aumentata molto la parte femminile e credo che possa dare il suo contributo anche alla donna e vedo che negli ultimi anni è anche molto positivo. Nello specifico avere un'attività in proprio ti sacrifica tempo libero e anche della famiglia per poter dare di più alla tua azienda quando si lavora in proprio. In un paese magari anche piccolo questo ti sacrifica un po' di più, però è molto bello perché conosci la realtà del paese, conosci il territorio, conosci anche la storia e questo ti rende anche grazie al lavoro che io faccio, che viene dalla terra, le radici molto più profonde nel territorio in cui noi siamo. Buongiorno, siamo i bambini della classe terza B di Volano. Vorremmo farle alcune domande per il nostro progetto Micro Storie del Commercio. Possiamo? Sì. Si può presentare per favore? Allora io sono Francesco Vivori e ho 45 anni e faccio il panificatore da circa 26 anni, da quando avevo 18 anni. Ci troviamo qua perché è il punto da dove parte il nostro prodotto. Noi facciamo pane quindi da qua parte tutta la nostra lavorazione e quindi da dove inizia a nascere il pane. Potrebbe descriverci la sua attività? Quando è iniziata? È iniziato mio padre, ha cominciato a fare pane lui che aveva 15 anni, quindi nel 1960, come garzone prima, quindi il garzone è quello che fa i lavori più semplici del pane, prima di cominciare a fare l'impasto eccetera. A 22 anni ha iniziato un'attività sua di panificio, negli anni 70 ecco. Attenzione al gradino. Questo è il laboratorio dove tutte le notti facciamo il pane. Si inizia da impastare tutti gli ingredienti, poi vedete che ci sono tutti quei macchinari là, in vari macchinari si fanno i vari formati di pane, poi ci sono delle celle che fanno lievitare il prodotto e fuori dove eravamo prima ci sono i forni che dopo vedete. Qual era il suo sogno da piccolo? Allora io da piccolo non pensavo di fare questo lavoro, dopo logicamente respiro il profumo del pane da quando ero piccolino, quindi c'era qualche indizio che mi portava a fare questo lavoro. Poi andando avanti con l'età ho deciso di fare questo lavoro. E ora qual è il suo sogno? Sicuramente farò questo lavoro per tutta la vita. In questi ultimi anni mi sono specializzato e ho fatto dei corsi, ho fatto scuola anche se sono un po' più grande di voi e voglio sviluppare quella che è la mia azienda con nuove idee, prodotti e con altre iniziative. Quali sono le cose importanti che aiutano a realizzare i propri sogni? Allora la cosa più importante è la passione che bisogna avere nel fare il proprio lavoro. Cioè il proprio lavoro deve piacere, allora lo fai volentieri e non ti pesa quello che fai e anche il tempo che ci impieghi non deve diventare una noia. Quindi se hai la passione lavori in una maniera diversa. Ma che produce il pane? Per fare il pane ci sono quattro ingredienti principali. Diciamo insieme, dai. Farina. La farina, ok. Olio. No. Farina. Acqua. L'acqua, ok. Poi per dare il sapore cosa è che mettiamo? Il zucchero. No, zucchero, no, è dolce. Il sale. Olio. E per farlo aumentare di volume. L'olio. L'olio. L'ievito. Il lievito, bravissimi. Buongiorno, siamo i bambini della classe terza A di Volano. Mi chiamo Dario, ero il titolare della pasticceria qua. Ho 64 anni, sono in pensione da tre e ho fatto il pasticcere per 42 anni. Ho amato tantissimo il mio lavoro, mi piaceva moltissimo fare sia i dolci che i gelati. però mi piaceva soprattutto incontrare le persone che venivano da me a trovarmi e a consumare. Perciò quando la mamma arrivava da me col bambino, per me era una gioia servirele e vedere che loro passavano un momento felice insieme. La prima torta l'ho fatta che avevo 10 anni, perciò pressa poco la vostra età, credo. Quanti ne avete voi? 8. Ecco, avevo 10 anni e volevo fare una sorpresa alla mia mamma a casa. Ho fatto la torta e mi si è bruciata. L'ho buttata nel bidone. Quando la mia mamma è tornata, ha detto, ma c'è profumo di bruciato, cosa è successo? Allora io ho pianto, mamma io volevo fare la torta per te. Mia mamma mi ha detto, domani la facciamo assieme. E lì lei mi è stata vicina nella mia passione per i dolci per tutta la vita. Io ho iniziato la mia attività nel 1982. Perciò probabilmente forse i vostri genitori non erano ancora nati. Prima lavorando in una bottega per imparare il lavoro. E poi, con l'aiuto della mia mamma che mi ha spinto, ho aperto questa attività e l'ho portata avanti per 38 anni. Quando ho aperto l'attività io, a Volano non c'era una gelateria. E erano le prime che c'erano qui in zona. Le attività una volta erano quelle che adesso chiamano microattività. Se voi andate dalla chiesa fino alla piazza, ogni portone era una bottega. Perciò saremmo stati una cinquantina di attività. I negozi piccoli non ci sono più. Pensate che su tutti questi negozi una volta viveva una famiglia. Perché ogni piccola attività era l'entrata, lo stipendio che faceva vivere la famiglia. Perciò era una cosa molto importante il tessuto del paese. E adesso purtroppo questo tessuto è cambiato, è cambiata la società. Per lei quali sono le cose importanti per realizzare i propri sogni? Prima cosa, è bello avere un sogno e credere in quel sogno. Perché se uno ci crede, lo realizza. E poi, secondo me una cosa importante è cercare le persone che ti possono aiutare a realizzare quel sogno. Io ho avuto un momento in cui avrei voluto fare il maestro d'asilo. Però, in quegli anni là, il maestro d'asilo lo poteva fare solamente una ragazza. Per i ragazzi non era ammesso fare quella scuola. Di conseguenza l'alternativa è stata scegliere... Adesso voi siete fortunati perché potete seguire il vostro sogno. Buongiorno, siamo i bambini della classe terza B di Volano. Si può presentare, per favore, nome, età, professione? Allora, nome Luca Cagliari, età, 54 anni, professione, floricoltore. L'attività, allora, l'ha fatta iniziaria mio papà, ancora nel 1978, per cui più di 40 anni fa. E da lì siamo partiti e siamo arrivati qua, insomma, a portarlo avanti noi. Allora, il mio sogno da piccolo, mi sarebbe piacito fare il camionista, solamente che mio papà aveva i trattori, un'attività appunto di agricoltura, e mi sono appassionato. Nel mio caso la cosa più importante è stata la famiglia, perché avere una famiglia unita ti dà intanto un aiuto forte nei momenti di difficoltà. Ti aiuta perché più test e pensanti, più riescono a focalizzare meglio l'obiettivo, per cui molte volte sai, uno magari ha dei sogni che magari sono più grandi di quelli che sono poi le possibilità. E dopo tanta buona volontà, tanta energia, ecco, non scoraggiarsi quando qualcosa va male. Da uno a mille, quanto le piace il suo lavoro? Da uno a mille, direi più di mille, mille e uno. Mi piace tantissimo, non farai cambio in questo momento con nulla. E a volte, anche quando hai momenti di scomporto, penso che comunque è bello avere un'azienda, anche averla vista cambiare nel tempo. Per cui sono veramente contento. Quando io ero grande come voi e passavo per il centro del paese, ogni vetrina che voi vedete, piccola, che adesso sono chiusa, erano negozi, erano attività. C'erano, che ricordo io, cinque panifici, tre, quattro negozi di frutta e verdura, c'erano tre o quattro macellerie. Ce n'erano più di 30, 30, 40 attività nel paese. Adesso si è svuotato. Per cui è veramente difficile fare adesso la spesa. Avete visto che c'è una famiglia cooperativa nel paese? Voi pensate che ha una difficoltà enorme a rimanere in piedi con la famiglia cooperativa? Perché deve competere con i supermercati di Rovereto, dove tutti andiamo anche a fare la spesa, molte volte perché c'è più prodotto. Però bisogna ogni tanto, anche nel piccolo, andare a prendere, non so, il latte, una cosa lì. Perché la tieni viva? Perché poi quel negozio lì ci serve, e serve per i nostri nonni, per i nostri anziani, che devono magari dal paese andare a fare la spesa tutti i giorni. E sono serviti questi negozi nei momenti di pandemia, due anni fa, quando eravamo tutti chiusi in casa, perché tu non potevi uscire dal paese, dovevi andare nell'attività che c'era. e la famiglia cooperativa era piena di persone che andavano a fare la spesa. Ecco, bisogna ricordarsi anche di queste cose quando va bene, bisogna ricordarsi anche dei momenti che andava anche male. Io mi chiamo Silvana, ho qua anche un'altra ragazza che si chiama Sharon, siamo qua in via Trento, in centro storico, prima di me c'era un negozio di alimentari, una volta c'erano tanti negozi, adesso siamo diventati pochi. stessa, chiudono i negozi piccoli, sai, io sono qua da tanti anni, sono storica, vi dico quanti anni che sono qua, 50 anni, sono qua dal 1973, era bellissimo, tutti i giorni si usciva, la mattina si apriva, ci si salutava, con la scopa si puliva il suo pezzo di strada davanti, e dopo quando avevamo un po' di tempo si andava dal bar, il bar sport, si beveva il caffè e ci si aiutava tra negozianti, cioè bene comunque, era molto bello, però è bello anche adesso, anche se siamo i pochi, dai, adesso non si chiama più parrucchiere, si chiama acconciatori, una volta c'era la parrucchiera da donna e un parrucchiere da uomo, il mio lavoro è di tagliare, colorare i capelli, fare acconciature, sono venuta qua da giovane, avevo 17 anni, 18, tutta la gente mi vuole bene, ho creato una grande famiglia, anche se adesso c'è tante persone che non sono più di volano, comunque in un paese molto bello, si si conosce tutti, il mio sogno è di concludere il mio lavoro bene, che ci sia mia figlia che vada avanti, però ci sono anche tante difficoltà adesso, sai? Per lei quali sono le cose importanti che aiutano a realizzare i propri sogni? Credere di quello che fai, sai? Io ho sempre creduto di fare la parrucchiera, anche se la mia mamma ne diceva di no, perché ai miei tempi le parrucchiere erano un po' un problema, ti mandavano a lavorare in fabbrica, però io il mio sogno era di fare la parrucchiera e si è realizzata. Io due anni fa ho tenuto quasi quattro mesi il negozio chiuso, però tutti i miei clienti mi hanno aiutato, sono ritornata e questa è stata una soddisfazione per me, se non ci fosse stata anche mia figlia, forse avrei chiuso, però questo mi ha aiutato a superare la difficoltà che ho avuto. Allora, io sono Pasquali Rudi, ho il ristorante dal 1983, faccio il ristoratore insieme alla mia mamma e alla mia sorella, poi dal 2017 in poi è diventata pizzeria, anche pertanto bar, ristorante e pizzeria. Qua ci troviamo in un luogo anche storico, prima del ristorante c'era un albergo ristorante, poi quando l'abbiamo acquistato noi abbiamo solo fatto il ristorante. Prima era anche una locanda, il ristorante è stato modificato tre volte da quando siamo qui. Vengono clienti anche da lontano? Sì, spesso arrivano tedeschi, oggi ci sono alcuni bed and breakfast, però la fase del sviluppo del turismo deve essere ancora compresa sufficientemente, perché oggi le attività economiche dei paesi che lavorano sui censiti hanno grandi difficoltà. Ma in realtà come attività economiche sul territorio si contava più di 30 negozi a volare in passato. Ancora nella ristorazione se ti diversifichi qualcosa riesci a fare, ma devi centellinare i costi ma ne maniera tremenda. a volare in passato. E' quella la casa del frà! Sì, è quella la sua bisogna seguirla. Ma la sua setoia non c'è? No! Ciao! Ciao Francesco, buongiorno! Ciao bambine, sono Fabiana, ho 46 anni e vivo a Volano. Sono un'artigiana. Il mio lavoro si svolge non più in paese ma in casa. Ciao, io sono Doriana, ho 72 anni. Allora, io ho comprato il tabacchino nell'88. L'ho tenuto per 20, 21 anni. Avevo tante cosette. Non so, forse le vostre mamme o le vostre nonne si ricordano. Ho iniziato a lavorare lì con mia mamma quando ho finito la terza media. Aveva bisogno di una mano, sono andata a aiutarla. L'abbiamo allargata un pochino perché in due un po' intraprendenti abbiamo messo dentro giocattoli per bambini, cartoleria, tanta cartoleria e poi anche un piccolo angolo di merceria. Ecco lì che è nata la mia passione per il mio lavoro attuale. Sono partita ad azzaro ovviamente perché dopo la terza media non sono andata avanti con gli studi e quindi mi sono rimboccata le maniche e mi sono data da fare per una nuova professione. La mia passione mi ha portato fin qui e adesso ho un mio laboratorio con dentro le mie macchine da cucire, le mie stoffe, la mia lana. Le vendo online. Ho un negozio online e poi vendo anche in paese perché ormai mi conoscono. Però diciamo che devo fare i conti con queste vendite online che un po' mi stanno strette purtroppo ma il mondo è cambiato, il lavoro è cambiato. Ah sì, la vendita al pubblico è che sei sempre a contatto con le persone, le conosci tutte, ormai sai cosa vogliono, come ti entrano dalla porta, le conosci, se sono allegre, se sono tristi, se hanno la luna. Allora li sai prendere. Io ho imparato da mia mamma la disponibilità verso le altre persone. Più di trent'anni fa io ricordo questo, entrare in quel negozio era proprio una delizia perché c'era sempre una persona che ti accoglieva col sorriso. Ah, grazie. Il mio sogno da ragazzina era andare a fare l'infermiera, però i miei erano contadini e non ho potuto andare. E ora qual è il suo sogno? Quali le sue aspettative? Il mio sogno, ma sarà veramente un sogno perché al giorno d'oggi è difficile, è riaprirmi una bottega vera e propria in paese. Che meraviglia. Però vedo come un sogno perché mantenere le spese è quasi impossibile, però mi piacerebbe tantissimo. Io il mio sogno ormai l'ho realizzato. sono in prigione. Ecco, aiuto la Fabiana. No, tu vieni a aiutarmi. Quando ho qualche... Quando hai voglia. No, sarebbe bello. ...trizzatina di novità. Ecco. Il nostro sogno sarebbe ritornare a lavorare in paese, in un negozio.